L'attivista dell'opposizione anti-Putin, Alexei Navalli, non può lasciare la Russia. In partenza per Strasburgo, per assistere all'annuncio della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo sul suo caso, Navalli sarebbe stato bloccato all'aeroporto dalle forze dell'ordine. Non ci sono conferme ufficiali sul divieto di abbandonare la Russia, solo le parole dello stesso militante, pubblicate sul suo account Instagram. Mi hanno anche sequestrato il passaporto per speciali verifica, scritto sui social. 41 anni, avvocato, Alexei Navalli guida la fondazione anticorruzione che sta aggregando il consenso di molti cittadini, in particolare giovani, che contestano la legittimità della classe dirigente del paese. Dalla Corte Europea è atteso il verdetto che dovrà definire se gli arresti dell'oppositore di Putin, avvenuti nel 2012 e 2014, siano stati mossi da motivazioni politiche.